Controlli a tappeto nell'area della stazione centrale di Milano, troppo spesso teatro di violenze, spaccio e degrado. Diversa dalle altre volte, molto più intensa l'operazione alto impatto disposta dal Ministero dell'Interno in cui partecipano tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia e guardia di finanza. Dura tutto il giorno e la notte, si sviluppa quindi su due turni con sovrapposizione di personale nelle ore di punta fra le 18 e le 20, quando è maggiore l'affluenza di pendolari e viaggiatori per dare loro più sicurezza. Diamo continuità alla nostra azione, in questo periodo particolare grazie alle risorse impegnate anche dal Ministero che si aggiungono alla territoriale, stiamo dando un maggiore impulso ad un'attività in un territorio che è molto particolare, quello della stazione di Milano e le aree limitrofe. Identificazione di stranieri senza permessi o documenti, controlli su zone dove è frequente lo spaccio. Ha sicuramente una doppia valenza, la prima è quella dell'attività di prevenzione e contrasto dei reati sul territorio in particolare nelle zone circostanti alla stazione centrale, ma anche un'azione di prevenzione antidegrado in considerazione dell'alta affluenza di persone che solitamente fruiscono degli spazi antistanti alla stazione. Controlli che vengono eseguiti non solo nella zona pedonale davanti alla stazione centrale, ma anche nelle vie adiacenti in punti critici spesso segnalati dagli stessi cittadini.